Ciao ragazzi, questo video per me è un po' assurdo farlo perché io gioco a League of Legends dal dicembre 2011 quindi sono ormai quasi 13 anni che gioco a LoL per me LoL è il gioco più bello del mondo assieme al calcetto con gli amici non c'è nulla di più divertente l'idea di giocare con delle persone a cui vuoi bene e di far funzionare qualcosa insieme, coordinati e all'unisono per me è una delle sensazioni più belle della vita, mi dà un senso quando ho iniziato a giocare a League of Legends ho giocato 3 contro 3 perché ero terrorizzato dalla Summer's Rift, dalla mappa alanda degli evocatori in 5.5 avevo paura di essere insultato perché già ai tempi si parlava di questa tossicità di League of Legends di come se giocare male ti facevano nero io avevo un po' paura del giudizio degli altri poi per chi lo sa un giorno per caso mi sono fatto una norma 5 contro 5 trovai contro una vein che fece pente che la mente ci uccideva uno alla volta come fossero stati degli NPC in un film di Jackie Chan quella vein fece scattare in me qualcosa un sentimento di vendetta e di odio, di rancore che mi face dire ma questo qui come fa ad essere così forte e perché è così più forte di me cosa ha capito lui che io non ho capito e da quel giorno ho iniziato un'avventura ciao amici io sono Paolo Cannone e questo è il mio primo video su YouTube e oggi vi porto un gameplay di una partita che ho streamato Diamond, questa inizia che era la promo a Diamond 2 un'avventura per diventare più bravo al videogioco questa avventura mi ha portato in sei mesi al Platino 1 sono rimasto Platino 1 stack per buoni altri sei mesi poi sono riuscito ad arrivare al Diamond anche là un altro muro incredibile poi sono riuscito ad arrivare al Diamante 1 anche là un muro incredibile poi sono riuscito a fare il Master poi sono riuscito a fare il Challenge ho sempre trovato davanti a me dei muri non ho giocato Tony per sta merda allora c'era sempre un obiettivo ben chiaro ed era quello di diventare un pro player la famosa Lucca Comics 2015 quello probabilmente è stato il mio momento più alto come pro player almeno da un punto di vista di fama ero consigliato il suo proprio forte in Italia avevo tanto seguito ero anche molto rispettato come player se ne va in scioltezza trovano Paolo fuori posizione Brizz e Blue ma ai Next Gaming ai tempi subito dopo questa vittoria mi proposero uno stipendio di 50 euro al mese qualcuno lo sanno altri no ma diciamo questa informazione mi fece pensare che forse fare il pro player non era la mia way to go io avevo a casa la famosa mamma cannone e ogni giorno era un litigio per dimostrare che il mio potesse diventare un lavoro e io volevo lavorare con i videogiochi ho deciso di investire le mie capacità nel mondo dello streaming dell'intrattenimento mantenendo comunque un livello di gameplay alto praticamente tutte le season ho fatto il challenger e il challenger è l'apice no della solo queue di League of Legends ho giocato tante partite con gente che ha fatto i mondiali che ha giocato le finale dei mondiali ti salvo io mate no problem team work mate da Paolo cannone let's blitz ever e sono stato ancora nel sud e ho visto i propri quelli veri anche là vuoi vedere il blitz coach? no ci ho fatto anche con l'azione insieme e l'e-sport per me è sempre stato un qualcosa di veramente affascinante l'idea di fare una squadra e di mettere insieme delle persone diverse caratterialmente di farle funzionare per uno scopo comune per me è il senso della vita tramite League of Legends tramite il calcio tramite il lavoro tramite lo sport tramite un gruppo di amici che va a fare festa questo è il senso e sul LoL io ritengo di essere un buon compagno di squadra dopo aver quitato con X Gaming qualche anno dopo c'era comunque molta pressione sul tornare in competitivo e ci sono creati Mobarog il primo anno di Mobarog è stato molto bello perché nonostante fossi già ai tempi considerato un player mediocre otp blitzcrank fece il mio ero molto orgoglioso performance e mi pare che riuscimmo a raggiungere la terza posizione con il team con Acefoss Vanets giungla Tsutsume mid lane counter di carry me support tutti così bassi di vita Morgana si fa un flash ulti in mezzo a bullet e Demon arriva Paolo su 2 e kill la 2 e si lancia ultime da parte sua per rendere tutti i mortali counter che intanto in zone riesce a prendere anche vantaggio questo è un Ace Brizzo dovrebbe morire a breve e l'ultimo d'attacco di Vanets porta a casa l'ultima uccisione il flash stun di Paolo con la doppia che la lo split dopo andò molto molto peggio e ricevetti molto flame sia perché lo split l'ho fatto particolarmente bene sia perché ero comunque la figura più seguita quindi anche la più facile da prendere di mira questo un po' mi ha rotto l'anima per quanto riguarda il competitivo e me l'ha sempre fatto vivere come un un veleno un dolce veleno un po' come l'alco mi piace ma poi la mattina dopo sto male e vomito fin da bambino quando c'era Gimba Network e scoprì che Sterni era riuscito a fare della sua passione per viaggio che un lavoro fin da bambino ho capito che volevo fare il pro player diciamo che la condizione in Italia mi ha fatto un po' desistere da questo sogno perché avevo bisogno anche di di camparci aveva la passione e Twitch in questo non mi ha aiutato mi ha salvato chissà senza Twitch che cosa avrei fatto senza Youtube senza anche trovare delle persone che si sono affezionate a me si sono legate a me e mi hanno dato una grossa mano ricordo ancora le prime live con 10 spettatori come fossero ieri e ricordo il cringe che provavo quando mia mamma mi diceva chiudi e dicevo 20 anni e mi sentivo un bambino sgridato dalla mamma davanti a un pubblico che rideva di me non con me mi sono rotto i coglioni di giocare in solo Q tantissimo il livello di stress e di pressione che provo a giocare a Grandmaster a Challenger a Master con giocatori fortissimi per me non ne va la candela sto investendo tantissime risorse mentali per un obiettivo che poi non non mi ridà molto indietro questo si sono ho rifatto il Challenger due volte ero tipo ok adesso per chi lo sto facendo per il mio team non ho una squadra per il mio pubblico il mio pubblico sa che quando mi ci metto riesco a fare il Challenger dopo sembra sempre di di crearmi delle motivazioni degli obiettivi che sono fake vedi anche Odisseus no devo superare Odisseus mi sembra una macchinazione che mi che mi impongo per convincermi a andare avanti a fare solo Q solo Q che poi a volte mi porta anche a stare molto molto male perché a volte mi succede che noto quel mio cervello mentre gioco solo Q va da altre parti si fa i cazzi suoi non intrattiene non 3-yard sta là tanto King pilota automatico e tu metà le partite le vinci metà le partite le perdi con Blitzkamp posso anche giocare un altro videogioco praticamente perché tanto prendo 10 grab ho vinto la partita perché ho ammazzato 10 volte il carry a posto questo non non mi sta più bene e non voglio semplicemente crearmi una macchina azione un obiettivo per andare avanti io ho riflettuto su che cosa veramente mi piace e non è mai nella vita giocare solo Q e fare attività con le persone e giocare di squadra e anche aiutare gli altri a giocare meglio al videogioco perché a parte i bambini non ne parlo neanche quando mi metto a cuocere un under 14 Nicolás quanti anni hai? 13 ebbè è forte il mondo guarda che sberle che tiro bello forza bello una colonna hai visto? mi sembra la cosa più bella della vita i ragazzini sono genuini sono ancora limpidi e non corrotti dalla vita e questo davvero mi piace ma giocare da solo no non mi piace per niente sono una persona molto sociale e stare in ambienti sani mi fa crescere rigoglioso come un albero non ho intenzione di quittare l'all ma penso che la solo q sul main sul palocandone non la vedrò per un bel po' di tempo e mi piacerebbe giocare con la squadra e non per forza la squadra di player del mio livello mi piacerebbe anche semplicemente giocare con un gruppo di ragazzi che semplicemente mi stanno simpatici anche se sono gold platino silver magari non bronzo bronzo mi fanno davvero schifo giocare con un gruppo di persone che mi vuole bene tornare a fare attività con il pubblico che secondo me è anche quello per cui sono più famoso e più amato perché assieme alle persone dove il meglio di me sai che cosa dico io in un chat ogni volta che sono contro il no mi stavi derubando eh sì a parte quando chiedo la condizione di salute degli animali dei padroni l'ho detta molto complicata ma era molto semplice e niente ve lo volevo dire voglio semplicemente smettere di mentire a me stesso perché ne va del mio bene secondo me anche del bene vostro e si vede quando ciò che faccio vi diverte e sono sicuro che vi diverte anche quando faccio un bel grab a caps a challenger mi si chiude la pena pure a caps per uccidermi siamo ancora qui a parlarne quando vinco uno 1v1 contro debouse top lane sono convinto che vi haipi però il rapporto fra le volte che ci sto male le volte che ci sto bene secondo me non ne vale la candela coaching dove io ci stavo male non ho memoria in che modo c'è da fascista come faccio a fare PLP volte in cui ho giocato con dei fan Antonio sto fiddando contro i bronzi Antonio capisci ed è una grande vergogna per me Antonio e non mi sono divertito cioè gli scugnizi non so se vi ricordate mamma mia erano tutti scarsissimi mi bastava che parlasse un napoletano lo prendi credo non c'è più work arriva 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 questo per me è il senso e questo per me mi fa andare a dormire felice mi fa svegliare haipato Diego il figlio di è un artista molto bravo io ho fatto un coaching io ho chiesto anche meno soldi volevo solamente cuocerlo perché era un bambino dopo questo coaching mi scrive la mattina dopo il papà e mi fa Paolo Diego era contentissimo ha detto che gli ha ricordato un sacco di insegnanti della scuola che tu non gli vomiti un sacco di informazione addosso ma lo spingi a ragionare e questo gli piace tantissimo erano le 8 di mattina mi sono svegliato e inizio a fare 6 6 come se avessi segnato un gol contro il stack keeper col destro Paolo Cannone Paolo Cannone Paolo Cannone Paolo 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 psicodramma redlock insomma farò semplicemente quello che mi piace più nessuno mi obbliga a sfammare solo più non voi né clash né big rock né io io me lo auto imponevo perché non lo so forse è una di quelle abitudini che non ti rendi conto che ti stanno soffocando io vi ringrazio per l'attenzione e spero che i prossimi contenuti vi piaceranno molti contenuti che vedrete li avrete già visti e saranno semplicemente in salse diverse con uno spirito sicuramente più allegro altri format invece saranno totalmente nuovi ciao ragazzi stay strong stay a cazzo dritto grazie a tutti grazie a tutti